Se n'è andato nel modo più bello in compagnia di una delle sue ultime conquiste, ma il mito di Zanza continuerà. Un malore fulminante nella notte interrotto per sempre la lunga carriera del re dei vitelloni romagnoli. Al secolo, Maurizio Zanfanti, 63 anni, era noto in tutto il mondo per le sue conquiste amorose sulla riviera. Secondo le prime indiscrezioni, Zanza si era appartato in un'auto con una ragazza di 23 anni dell'est Europa, in via Pradelli, dove possedeva un terreno agricolo per un rapporto sessuale, quando improvvisamente si è sentito male. Sarebbe stata la stessa ragazza dare l'allarme chiamando al cellulare un amico comune, che a sua volta ha fatto arrivare i mezzi del 118. I sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma nonostante tutti i disperati tentativi, il suo cuore non ha ripreso a battere. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. La sua leggenda inizia negli anni 70 del secolo scorso, quando la riviera romagnola era affollata di turisti e soprattutto di bellezze straniere. In lungomare i locali notturni erano pieni di donne svedesi, francesi, inglesi e tedesche. Tra questi, uno su tutti il blow-up, come riporta il quotidiano online Rimini Today, con il suo butta dentro Maurizio Zanfanti, detto Zanza. Noto per la sua fama di Latin lover, arrivata oltre i confini italiani, tanto che le straniere arrivavano da tutta Europa per sperimentare lo spirito dell'amore latino. Maurizio aveva un atteggiamento estremamente gentile, il look ideale, un mix giusto per sedurre le donne. Era diventato così famoso per le sue doti al punto che la Bild, il più importante quotidiano tedesco, decise di scrivere un articolo su di lui. Zanza, i rubacuori della riviera, dal fisico prestante, con pantaloni di pelle, stivaletti e gileborchiati che facevano impazzire le straniere. Migliaia, come lui stesso raccontava, sono state le donne che ha reso felici.